un gigante pan brioche sofficissimo al cioccolato oppure babka da preparare insieme forza ragazzi prepariamo latte lievito di birra disidratato uova farina e burro lievito nel latte mescoliamo uova e zucchero nella planetaria uniamo latte lievito farina poca alla volta e andiamo a mescolare prima con la foglia poi quando il composto inizia a compattarsi cambiamo la foglia e mettiamo il gancio questo qua adesso burro morbido poco alla volta e lasciamo lavorare fino a quando l'impasto si incorda lo trasferiamo poi in una ciotola lievitare coperto in forno spento luce accesa per due ore intanto preparato la glassa il caffè mi sono fatto un caffè e con la stessa cialda caffè lungo e zucchero fatta densare sul fuoco messo da parte per dopo poi prendiamo l'impasto lo stendiamo con le mani e copriamo con la crema alle nocciole oppure utilizzate la crema che preferite morbidissimo questo impasto davvero favoloso arrotoliamo poi una volta che abbiamo ricoperto di cioccolata e formiamo un salsicciotto che andiamo a tagliare a metà per il lungo arrotoliamo queste due strisce e le mettiamo nella teglia rivestita di carta forno via cuocere forno ventilato caldo 180 gradi per 20 25 minuti sforniamo e glassiamo con la salsa caffè sempre se vi piace altrimenti acqua e zucchero semolato e il paradiso ragazzi eccolo qua se poi lo mangiate è tipido che ve lo dica a fare